E' stata quella del candidato sindaco Ezio Raciti la prima lista ad essere presentata ieri mattina presso l'ufficio del segretario comunale di riposto. La presentazione della lista Una storia possibile è avvenuta alle 11.30 e vede la lista formata da 10 uomini e 6 donne. Gli aspiranti consiglieri che concorreranno alle elezioni amministrative del 10 giugno sono Auditore Lucia, Bellalba Carmen, Bombara Arianna, Cantarella Sergio, Costanzo Sebastiano, Di Bella Angelo, Di Martino Giampaolo, Messina Francesca Maria, Patanè Maria Catena Grazia, Pavone Andrea, Rapisarda Giuseppe, Rapisarda Saverio, Recep Bubaker, Rossi Giuseppe Riccardo, Russo Massimiliano, Salici Maria Giustina. Secondo Rumors il candidato Raciti designerà in prima battuta tutti e quattro gli assessori che risultano essere professionisti nei propri settori ben inseriti nella società. L'anno alle 13 è stata presentata anche la lista La Nostra Città che sostiene il candidato sindaco Enzo Caragliano. Ancora non si conoscono i nomi ma secondo indiscrezioni risulterebbe essere una squadra affiodata e competente. Anche l'attuale sindaco sarebbe orientato ad indicare tutti e quattro gli assessori in prima battuta. e dovrebbero essere il biologo Carlo Copani, l'avvocato Maria Di Guardo, l'ingegnere Rosario Caltabiano e l'architetto Valerio Varonese. Il termine ultimo per la presentazione delle liste scadrà mercoledì.